Allora Nicola Ianeselli, tu vieni da una stagione con Neruda in cui sei stata fuori e qui a Volano stai iniziando a recuperare pian piano la condizione fisica. Cosa ti aspetti quando potrai finalmente ricalcare il terreno di gioco? Intanto non vedo l'ora di poter tornare in campo ad aiutare i miei compagni. Sto dando il massimo in allenamento, ho recuperato bene il ginocchio che era il mio problema principale. Adesso ho un piccolo problema al piede che spero si risolverà presto. Comunque do il massimo e sono contenta di come è andata anche oggi la prestazione. Sono state tutte brave e siamo felici. Che collaborazione vorresti dare al Volano quando potrai tornare in campo? Io do sempre il massimo, spero di stare qui a lungo, anche nei prossimi anni magari e niente, spero di rientrare presto. Grazie Nicola, in buca al lupo. Grazie, grazie. Grazie.